Buongiorno e benvenuti a questa Rassegna Stampa di oggi, domenica 19 novembre. Vediamo quali sono i temi di giornata. Intanto sulla politica la liquidiamo subito brevemente in questa apertura di Rassegna Stampa perché la notizia è che Prodi ci ha ripensato, Prodi. Allora io vi vorrei segnalare soltanto, e in quel giorno non avevo forse fatto la zuppa di porro, che il 9 novembre, cioè dieci giorni fa, Prodi si è distinto per una frase molto insignificativa sull'Italia. E' la seguente, l'Italia è in Italia, c'è una tragedia, l'Italia è al baratro. Ovviamente l'ha riferita alla situazione in cui Prodi aveva portato Renzi l'Italia, quindi Renzi sarebbe stato il colpevole di questa situazione drammatica in cui era l'Italia. Nel frattempo segnalo a Prodi che rispetto a quando c'era lui l'Italia cresce all'1,8%, qualche piccola riforma si è cercato di farla. Insomma c'è una situazione molto diversa anche dal punto di vista economico rispetto a quello del famoso professor Prodi che da un punto di vista politico non mi sembra che poi abbia fatto uno dei governi migliori del mondo. Anzi un governo che si reggeva per un voto e cadde, vi ricorderete, perché un magistrato indagò sul suo ministro della giustizia Mastella. Ricordatevi Prodi che cosa era, a me va benissimo, mi sta anche simpatico Mastella, però questo è il contesto dal quale Prodi oggi ci dice che l'Italia è al baratro. Può essere che non vadano bene le cose, ho detto io stesso che l'1,8% della crescita del PIL è il più alto degli ultimi sei anni, ma certamente il più basso dei grandi paesi europei. Ma comunque per chi volesse oggi occuparsi di politica, la novità è che Prodi sta cercando insieme a Fassino, queste due grandi personalità della sinistra, di rimettere in piedi il centrosinistra che sarebbe stato distrutto, dicono, da Renzi. Questa è la prima notizia di politica. Seconda questione fondamentale invece è quella che riguarda l'economia, le pensioni. Ecco, in questo caso invece il tema è altrettanto innovativo, innovativo perché a far saltare il tavolo del governo sulle pensioni che continua a dare più soldi per evitare che si vada alla rottura è la CGL. Oggi c'è un'intervista della Comusso, del segretario della CGL, che dice che la CGL non ci sta alla proposta del governo sulle pensioni e che propone uno sciopero generale. Allora io mi chiedo, e qualcuno forse dovrebbe chiedersi, ma per quale motivo la CGL è un interlocutore del governo sulle pensioni? Ma chi cavolo rappresenta la CGL? Un tempo la CGL non era il sindacato dei lavoratori, la CGL non si dovrebbe occupare di quelli che lavorano, evidentemente non è più così. La CGL è diventato il partito e il movimento dei pensionati. Un tempo c'era il partito dei pensionati, oggi c'è il sindacato che si occupa dei pensionati e quel sindacato si chiama la CGL. Non riesco a capire per quale motivo al mondo sia la CGL l'interlocutore per le pensioni. La CGL rappresenta i giovani? Sì, quando vanno a manifestare in piazza e imbrattano le piazze. Rappresenta i lavoratori? Sì, quando dovrebbe rappresentare i metalmeccanici, i lavoratori del pubblico impiego. Rappresenta anche i pensionati? Sì. Allora che cosa facciamo a fare le elezioni politiche? Se abbiamo questa specie di corporazione che è la CGL, che rappresenta i giovani sull'alternanza scuola-lavoro che protestano, i metalmeccanici, gli insegnanti che protestano, i pensionati che protestano, allora facciamo una cosa, liberiamoci del governo Gentiloni, liberiamoci della democrazia del Parlamento e facciamo fare tutto quanto a CGL e Cisle Will, i cui iscritti, trasparenza, bilanci, tutte robe che non sono chiari. Se c'era una cosa buona che aveva fatto Renzi era quella di mettere in secondo piano le trattative con i sindacati. Ritorneremo qua. In realtà poi la Camusso è straordinaria perché si capisce che il suo ruolo non è più quella di sindacalista ma di politica. Sapete che cosa dice in un'intervista oggi del Corriere della Sera? Dice che è il premier Gentiloni che poi favorisce l'affermazione e il voto a Salvini. Può anche essere che sia così, ma non è un mestiere della CGL occuparsi di queste cose. Fino a prova contraria, poi per carità. Fantastica come sempre la storia del Virgilio di Roma. Il Virgilio di Roma è una scuola fighetta, lo è sempre stata, ma non perché è partecipata soltanto da l'unifighetti, questo è fuori di dubbio. Ci sono genitori, persone, ragazzi normali che frequentano piccoli borghesi, figli come oggi scrive Caldarola, di colf, di portieri, di custodi, insomma c'è di tutto, come in tutte le scuole c'è di tutto nelle scuole pubbliche, ma è gestita intellettualmente da un gruppetto, la cricca come la chiamano i giornali, di fighetti, che rompono le scalle di tutti gli altri. Oggi, ieri la preside, ve ne ho parlato, ha fatto una inveterata su Corriere della Sera dicendo sbettetela perché state distruggendo questa scuola, un gruppetto di fighetti protetti dai genitori la sta distruggendo. Oggi vedo uno di questi padri dei fighetti, cioè Caldarola, l'ex direttore dell'unità, che dice la sua, intanto bene che ne parla, almeno perché i fighetti in genere non parlano, i genitori fanno fitto, no, non so niente, figurati mio figlio vai ad un'altra scuola, eccetera. Poi alla domanda, girava la droga, una droga, oggi vediamo su un messaggero, che si trova poi di Xanax, di marijuana, di cocaina, di pasticche, durante una festa per l'occupazione, perché queste sono le feste che si fanno al Virgilio. La risposta di Caldarola, al fatto che girasse della droga durante una festa dell'occupazione, sapete qual è? La droga esiste in tutte le scuole d'Italia, il problema è che c'è stata una mancata richiesta di collaborazione con i genitori. Allora, il fatto che la droga esiste in tutte le scuole d'Italia, ma anche in tutte le piazze d'Italia, in tutti i circoli d'Italia, in tutte le famiglie d'Italia, in tutti gli ospedali d'Italia, dove cacchio volete voi, in tutte le relazioni d'Italia, può essere una risposta fatta da un padre nei confronti della scuola dove c'è il figlio 15enne? Cioè, secondo voi, questa è la risposta, buongiorno a Marco, che vedo che è arrivato tra di noi, oggi di domenica Marco non sta in circoscrizione, ma segue la diretta di Facebook. Allora mi chiedo, ma può essere questa la risposta del padre di Caldarone? Allora capisco tutto, se il papà di un figlio che vede nell'occupazione di quella scuola traffico di droga, di Xanax, e i genitori stessi di quella scuola si lamentano perché la preside chiama la polizia per arrestare un pusher e il padre di uno di questi dice che la droga esiste in tutte le scuole d'Italia, cioè dice una banità che tutti noi conosciamo e con questo giustifica il fatto ovviamente che ci sia anche, ma che volete che sia, c'è ovunque questa droga anche nella nostra, ma ragazzi vi rendete conto? Questi sono i nostri, l'ho già detto ieri, i figli dei nostri, della nostra classe dirigente che domani sarà burocrate e politica di questo paese. Bellissima un'intervista ad Albanese, la storia di un giovane squattrinato che arriva al derby e a Zelig e diventa famoso è bella perché l'intervista di Albanese ve la segnalo per il semplice motivo che a una domanda molto semplice previsci Grillo o Renzi Albanese risponde come deve rispondere un uomo dello spettacolo, non parlo di politica, io non faccio questo, io faccio i miei film, faccio cettola qualunque, racconto, denuncio, non parlo di politica. Vivondì via da Mediaset, sembra uno scuppone fatto oggi da Repubblica, mi sono letto purtroppo l'intera pagina di questo pezzo, ecco il grande pratto tra Berlusconi e Bollorè, ragazzi, fuffa, probabilmente si arriverà a quello, io pensavo che Repubblica avesse trovato qualche informazione, in realtà Repubblica ha semplicemente fatto una rassegna stampa, neanche tanto ragionata, dei giornali, delle discrizioni delle settimane scorse. Poca roba oggi sui giornali, andatevene all'aria aperta a leggere un buon libro, mi verrebbe da dire, con questa lettura di oggi, un po' noiosetta, dei giornali italiani. Ciao!